Musica Benvenuti a una nuova puntata di Da Fassan Court Il Consello dell'autonomia locale è l'organismo che rappresenta l'istituzione, l'autonomia e l'unità di enti locali della provincia autonoma di Trent Della vita di quelli che vengono portati argomenti, proponenti e studiati per l'urre a una e con delle problematiche che gli interessano Il Consello dell'autonomia locale è stato messo nel 2005 a ciò che gli enti locali abbiano il medito aperto alle cerni istituzionali e all'attività legislativa e amministrativa della provincia Anche con di che il Consello l'emmetto ad un da uno più un bolce in rappresentanza dei vigni collegi e territori E per Fassan l'estat cernu l'ombol da Ciampedell Ivo Bernard Da scomenzio di sia legislatura la procuradora Elena Testor la metto all'ustre l'importanza per Fassan Da er inci il Comune Generale rappresentate che il Consello In stadi il conseglier Ladinde Tomas apportate provincia in descende legge A ciò che è venito autite inci nella rappresentanza della Mendrances del Consello dell'autonomia locale Inci perché che gli ha interesse e punti di veduta dei sferenti dagli etri Ne portano all'argomento la procuradora Elena Testor Nel 2014 che l'estat ha fatto la riforma sulle comunità de Val L'estat muda ite tutte le comunità de Val Al de Forde che è il Comune Generale Asa che il Comune Generale ha una legge sia provinziale che la metto su e che lo tutela Le comunità de Val adesso le si muda de Fora E anche in c'è la composizione del Consiglio delle Autonomie Locali Le vigni muda ite Dantle era pervedù la presenza di tutti i presidenti delle comunità de Val Adesso invece per le comunità de Val Le ite un rappresentante che venne eletto all'interno De quella che potevano definire la conferenza dei presidenti delle comunità de Val Che è salita un suo rappresentante Il Comune Generale però ha chiesto le disvali Fa già che non sono una mendranza linguistica E dunque hanno delle peculiarità da portare in anno Per Fassa l'estate l'ittà è in c'è il Consiglio degli Ombolci L'ombolci di Ciampedelli, Ivo Bernard Che rappresenta il territorio di Fassa Che comuns Però voglio ricorderla di Sferenza Asa che il Comune Generale L'ha tutta il ruolo all'interno della provincia autonoma di Trent La procuradora l'ha desigur Un ruolo di Svalif rispetto ai presidenti delle comunità Asa Che ha una peculiarità diversa Il Comune Generale insieme all'Istituto Culturale, alla Scuola Ladina L'ha che porta in anno per l'engazzo, per la cultura E l'ha che tenne su l'autonomia della provincia di Trent Ed anche a girare fuori questa figura Secondo me fosse una mancanza dell'urier che si è andato a portare in anno Ai 13 e 14 di messe l'estate a Bruxelles nascono treda Ante il Commissario europeo per l'educazione e la cultura Tibor Navraxis E la presidenza dell'NPLD L'area europea per l'estravardamento e la valorizzazione della mendranza linguistica dell'Europa Dicchela che fa esperta in Cessabrina Rasom Responsabola di servizi linguistici e culturei Dicchela che l'estate resonà dell'endrezza della Commissione europea Perchè il creverda il sostegno di les e l'engazzo di mendranza La presidenza dell'NPLD ha anche portadante al Commissario il piano di azione Per la promozione e la disvalivanza linguistica Che l'è il documento di base della REI E Sabrina Rasom già portadante l'esempio della piccola mendranza della nostra provincia Resonando i risultati della scontreda con la vicepresidenta dell'NPLD Sabrina Rasom I argomenti che l'estate portadanti e l'estate soradute E il cruzie che l'è per la disvalivanza linguistica Dicchè il momento dell'Europa che la conseguenza è cruciale Soll'altro dell'economia e dell'immigrazione Più gran di valuta e che il poste ente farà ciò che la mendranza Sle sdeide i paesi d'engazzo di mendranza a se baratter buona pratica Tutto un contesto che adesso, soprattutto l'immigrazione Un gran paese Già è stato portadante il fatto che i paesi d'engazzo di mendranza E' sicuramente un po' è più aperto a questa situazione Soprattutto anche perché si tratta di disvalivanza linguistica E quindi è più buon fosso di portadanti proponenti di questa sorta La proponente dell'NPLD L'estate stavate su una vita molto aperta e positiva Da man del commissario Che l'ha proponente che tanto dal punto di vista De l'educazione e dell'auta formazione Che da quel dell'economia Se possa l'urrere di sé Ma appuntin perché che i gioi di mendranza I possi avvicinare all'Europa E so la luce verso il contributo Deve il paio di essere stati con noi E ci chiediamo questa settimana Se vediamo l'auta che viene